ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con salva un amico siamo al parco canile empa di monza sono con stefania con bisbino come è arrivato qui in canile allora lui è proprio una new entry infatti lo stiamo conoscendo in questi giorni è stato accalappiato sul nostro territorio quindi non aveva microchip non aveva un padrone a cui risalire e quindi dopo i giorni di osservazione in canile sanitario adesso è quasi pronto a trovare casa ma pronto comunque ecco lui ha quattro anni esatto si è stata una valutazione dell'età che ha fatto il veterinario ovviamente quando quando l'ha visitato è una taglia media abbondante diciamo sì e nonostante in realtà ha finito l'età della della fanciullezza lui è molto attivo molto allegro e con tanta voglia di fare passeggiate di giocare lui a quattro anni potrebbe aver vissuto questi anni per strada allora è una bella domanda nel senso che ovviamente non abbiamo notizie certe però diciamo che sicuramente all'esterno del canile lui non è un cane spaventato al passaggio di macchine o altre persone quindi potrebbe essere magari originariamente un cane che arriva da un'altra regione ma che però è abbastanza abituato a vivere qua qua da noi ecco per come lo state conoscendo in questi giorni qual è il suo rapporto con le persone e con gli animali allora lui è un cane sicuramente socievole con le persone tanto è vero che a volte ci si distrusce o comunque gli fa piacere ricevere qualche coccola e gli fa piacere avere la vicinanza delle persone mentre invece nei confronti degli altri animali allora lui al momento ovviamente essendo appena arrivato non è ancora stato sterilizzato quindi diciamo che tende un po' a marcare da tutte le parti e che pare non andare troppo d'accordo con gli altri cani maschi quindi ipotizzeremo al momento che possa essere affidato però in presenza di una femmina mentre invece riguardo ai gatti allora pare abbiano un rapporto un po controverso nel senso che a lui sembrano piacere però diciamo che si rivolge a loro in maniera abbastanza irruenta quindi o è meglio una famiglia senza altri probabilmente sì perché anche il gatto più più bravo del mondo comunque potrebbe essere spaventato dal suo modo di porsi quindi bisbino è pronto per essere adottato esatto adesso ha già fatto il microchip è stato vaccinato a breve procederemo con la con la sterilizzazione anche il suo percorso sanitario sta procedendo ma abbastanza bene assolutamente dato bene speriamo trovi presto una famiglia per adottare o avere ulteriori informazioni basta contattare il parco canile empa di monza al numero 039 835 623 oppure inviare un'email a canile at empa monza punto it